Siete pronti per le pagelle di Inter Juve? Inter Juve 2 a 0! Siete pronti? Iniziamo! Però voglio anche sapere cosa ne pensate, devo ancora informarmi bene 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 sulla vicenda del logo, perché sembra che l'Inter voglia cambiare logo, voglia ridisegnarlo, diciamo, non so, dite se siete un po' informati, se avete un po' seguito le cose, casomai ne parleremo nei prossimi giorni, dite un po' cosa ne pensate voi, ecco. E ovviamente domani invece cercherò di farvi il video sulla società, quello più economico, su quello che sta succedendo, eccetera, eccetera. Arriviamo alle pagelle. Bei voti oggi, eh? Bei voti, è interessante. Allora andare a vederli, ovviamente partiamo con Andanovic, il nostro portierone, che non fa una parata neanche una ieri sera, e beh, no, una ne ha fatta, una ne ha fatta contro Chiesa verso la fine della partita, però diciamo che non ha fatto parate non perché non si sia buttato, ma perché è stato inoperoso, la Juve non ha mai attaccato di per sé, gli abbiamo annichilidi, e quindi fondamentalmente Andanovic si porta a casa un 7 perché ha fatto una gran parata su Chiesa, ha fatto una bella girata verso l'ottantesimo e si è fatto trovare prontissimo il nostro capitano a rimanere a reti inviolate, che è bello perché vincere 2-0, no? Dici, beh, 2-0 proprio, la Juve non si è mai vista, bene. Skriniar, 7, lui è operoso invece, lui è proprio operoso, ci fa proprio vedere, e si trasforma in un muro di gomma, cioè, un muro no? Ma un muro di gomma cosa fa? Rimbalza, rimbalza chiunque, cioè la gente gli va contro e rimbalza, Ronaldo, Morata, Chiesa, chi volete, rimbalzano tutti quanti, e infatti ha fatto una gran partita, una roccia, veramente pensare che qualcuno voleva cederlo in estate per 35 milioni perché non era adatto il nostro modo di giocare, andiamo avanti. Devrai, 7, copertura ottima, concentratissimo il nostro Devrai, e in effetti non ricordo chi abbia giocato come centravanti della Juve. Annullato Morata, mai visto Morata, non so se abbia giocato lui, può essere. Bastoni, 8 per Bastoni, personalità pazzesca per Bastoni ragazzi, veramente, veramente che personalità, sembra veramente un veterano, sempre in anticipo, sempre pulito in anticipo, ma anche pulito, bello da vedere, elegante con la palla tra i piedi e sfoggia un assist fenomenale, e guardatevi l'assist di Bastoni, come è nata quell'azione lì. Andanovic la passa a Bastoni, Bastoni viene un po' su, assist, incredibile per Barella. L'avesse fatto Bonucci, uh, pallone d'oro, ha fatto Bastoni, archiviato. E devo dire che ha fatto anche altre due uscite dalla difesa, un po' alla Lussio, no? Belle, quelle che parti da dietro, anticipi, vieni su, bello, 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 mi piace proprio tanto. Sono orgoglioso del mio pupillo, Bastoni, e anche di quell'altro pupillo che adesso andiamo ad analizzare, cioè Hakimi, 7 per Hakimi, la fascia a destra è tutta sua. Frabotta, ha giocato lui, ovviamente nel pre-partita, avevo detto che la prima opzione a cui credevo era che la Juve si mettesse a specchio, addirittura usando Frabotta, e Danilo magari invece come terzo di difesa, qualcuno l'ha preso in giro, invece la Juve si è messa a specchio, 3-5-2, Frabotta, a sinistra! Ed è frastornato Frabotta, ancora proprio non riesce a raccapezzarsi, chiaramente Hakimi è un giocatore importante, non che siano molto distanti d'età, anzi forse sono addirittura coetanei, o forse Hakimi avrà un anno in più di Frabotta, però la differenza c'è come esperienza, diciamo, internazionale. E, ecco, Hakimi non butta mai via un pallone, comunque, anche quando magari in velocità non riesce a trovare il varco giusto, deve un po', arriva fino in fondo, torna indietro, così non butta via un pallone, quindi velocità, atletismo, ma anche tecnica, e poi ha una gamba allucinante, non si stanca mai! Barella, 8 ragazzi, no, 8, 8 più per Barella! Quel più gli vale il migliore in campo, sia chiaro, è un po' per quello. Devastante Barella, una grinta atomica, trova sempre lo spazio tra le linee, e ci si infila veramente con intensità totale. Devo dire, ecco, però, che, per esempio, il gol che abbiamo fatto con Bastoni che lancia Barella, grandissimo lancio di Bastoni, grandissimo Barella in percussione, poi a trovare il gol, ma la Juve, come caspita, difendeva quel tipo di azione lì. Cioè, era un'azione dove noi siamo partiti da Andanovic, Andanovic la passa a Bastoni, Bastoni fa un lancio, gol. Cioè, la Juve veramente, cioè, umiliata, eh, umiliata. Comunque, Barella, torniamo a lui, davvero grande prestazione, anche in fase di lotta e di recupero. Ottimo che abbia riposato, secondo me, in Coppa Italia, come auspicavano. Barella non deve toccare il campo, invece l'ha dovuto toccare perché siamo andati ai supplementari, però ha giocato comunque poco, ha giocato l'ultimo pezzetto di partita, quindi si è visto che stava bene ieri, che aveva fiato. Barella ha bisogno di avere fiato, ha bisogno di trovare la condizione fisica migliore. E oggi, ieri, o meglio, ci ha fatto vedere di star bene e sono veramente contento di come ha tenuto il campo. Cioè, veramente, ha fatto 3-4 percussioni devastanti, eh. Ma devastanti. Brozovic, 7. Anche lui, anche lui, anche su di lui l'abbiamo letta bene la situazione, nel pre-partita, no? Vi ricordate che ho detto, eh, la Juve potrebbe mettersi a specchio, o utilizza il suo classico 4-4-2, ma probabilmente si metterà a specchio, con Frabotta, Danilo, e Brozovic sarà lasciato libero, vedrete, perché dubito che Morata o Ronaldo andranno a fare la copertura a uomo, come il Castrovilli di turno su Eriksen l'altro giorno. E infatti così è stato, lettura magistrale. Non di Conte, ma anche di Conte, ma anche nostra, però. È un pochetto, cazzo. Oh, quindi Brozovic libero, come preventivato, e infatti ha fatto una gran partita. Eh, insomma, eh, tra 5-2, mediano-basso, nessuno che ti marca, sei libero, puoi impostare a testa alta, e infatti lui lo fa. E infatti lui lo fa, cioè, l'ha fatto, ha impostato a testa alta, e si sono visti i risultati di essere libero senza il pressing. Boh, Juve non proprio... Vabbè, possiamo stare. Vidal, 7 anche per lui. Nel pre-partita è superficiale, perché ha fatto questo siparietto con i suoi ex compagni, Chiellini, Bonucci, quella roba lì in pochi, lo stemma, la cosa, che poi gli ha spiegato che in realtà non aveva stato lo stemma, ovviamente, ma voleva abbracciare il suo ex compagno, perché comunque ci stiamo, l'amicizia, eccetera, eccetera, però il fotomontaggio, cioè, no, il fotomontaggio, il... Dai, un po' super... Vidal, sei un po'... Diciamo che sei stato ingenuo, per non dire che sei un po' stato superficiale, però risponde presente con un gol da inserimento, che ci sono mancati tantissimo, sul campo, risponde presente sul campo, facendo vedere che è professionista, e lottando su ogni pallone. Ecco, però, avesse fatto una prestazione un po' così, media, da sei, e avesse l'Inter, non so, pareggiato, per esempio, no, o perso, che ci può anche stare contro la Juve, puoi pensarlo, ecco, probabilmente Vidal sarebbe stato massacrato, quindi, attenzione, cioè, Vidal, cerca di stare un po' con la testa sulla terra, e non... sai come funziona il mondo. Young, sei più, l'Inter non passa molto da sinistra, perché c'è Hakimi a destra, e si attacca sempre da quella parte, e poi c'è Barella dall'altra parte, quindi, assolutamente, insomma, la parte sinistra è stata poco utilizzata, però lui tiene bene la posizione ed è utile in fase di manovra. Diciamo che l'ammunizione è stata un po' cretina, cioè, gli danno il pallone, lui fa così, cioè, sembra quasi palla avvelenata, no? Vabbè, lasciamo stare, però ha fatto la sua performance. Lautaro, sei meno, ecco, lui è l'unica non sufficienza, diciamo, della partita. Si muove molto e lavora anche bene qualche pallone, perché in realtà c'era in partita, si è mosso anche bene, però, ed è andato anche a poter segnare, ma appunto si è fatto trovare male due volte con l'appuntamento per il gol. E anche lì, non finalizzare contro la Juve è grave, perché poi magari la partita rimane aperta, eccetera, eccetera. Quindi, attenzione, Lautaro, devi essere un po' più cinico, un po' più goleador in alcune situazioni, sotto porta, ho capito che magari ti arriva il tapin messo male, tutto, ma devi essere un po' più lucido e cercare di colpire la palla in modo tale di buttarla dentro, non che sia forte, non che la colpisci bene, devi buttarla dentro la porta. Cioè, arriva il tapin, sei davanti alla porta, mettiti in un modo che la palla vada dentro! Lukaku, sei e mezzo. Con Chiellini non è facile, perché Chiellini è un osso veramente duro, un difensore rognoso. Lui però lo assorbe bene, e in una lotta fisica, insomma, che dura tutta la partita, con colpi d'accetta a destra manca. Però, ecco, riesce anche a rendersi utile per la squadra. Non è neanche lui riuscito a finalizzare, poteva avere un'occasione, ha avuto un'occasione due, un'occasione mezza, ghiotte, però, vabbè, almeno però ha centrato la porta, mettiamola così, almeno in un'occasione. E si è reso utile, appunto, per le sponde, queste cose qua, quindi è stato comunque positivo, ecco, anche se non in la serata magari migliore. Darmian, altro sei e mezzo, entra per Yang, per dargli un po' di riposo, visto che ha giocato anche in Coppa Italia, ma anche perché Yang è ammonito, e quindi serviva questo un po', questo cambio. Gioca d'esperienza, Darmian, entra senza andare troppo per il sottile, si mette subito ad aiutare la squadra, spazzando qualche pallone, o ripartendo un pochino, grazie al fiato, al fatto che fosse fresco, ecco. Tolgo la sciarpa e andiamo su Conte e la partita in generale. Ovviamente, ecco, Sanchez e Cagliardini, non gli do voto, entrambi sono da sei, sono entrati per dare una mano alla squadra, non è che abbiano fatto molto. Conte, otto più, come Barella, un po' migliore in campo, ci stava premiato Conte per questa partita, perché è stata preparata in maniera perfetta, giusto il modulo, il 3-5-2 ci stava, contro il 3-5-2 degli avversari, se fossero messi 4-4-2, realmente, in fase di possesso, anche non possesso, probabilmente, magari, bisognava cambiare qualcosa, però, così è stato perfetto. E, giusti gli interpreti, cioè, modulo e anche le scelte dei giocatori, bene così, bravo Conte, bene anche però con i cambi, perché Vidal era giusto toglierlo, anche se stava facendo bene, perché era cotto, era stanco, ha giocato anche in Coppa Italia, quindi, giusto mettere una riserva, anche se ha messo Gagliardini, in realtà, anche solo per avere un po' di freschezza in più. L'Inter stava facendo bene, quindi non c'era bisogno di mettere, un giocatore diverso, di qualità, perché stavamo già facendo bene in campo, vuol dire che, comunque funzionava così, la serata, era giusto, quindi, ci stava Gagliardini, e, soprattutto, ci stava perché Vidal era veramente stanco, e giusto anche togliere Yang, perché era ammonito, quindi era un cambio assolutamente intelligente da fare, con Darmian, giusto, anche questa è una cosa che, comunque l'avremmo fatta, a prescindere anche, anche se non fosse stato ammonito, ma ha maggior ragione con l'ammunizione. E poi, ultimo cambio, questa volta diciamolo, diciamolo chiaro e tondo, cosa che ci si aspettava anche in passato, finalmente toglie Lautaro, ma non per difendersi e mettere in campo un centrocampista, un difensore, un esterno in più, e difendersi gli ultimi 15-20 minuti, perché sei in vantaggio, eccetera, eccetera, ma toglie Lautaro e mette Sanchez senza chiudersi, e tutto, diciamo, si chiude perfettamente, perché addirittura, possiamo anche andare in attacco, e magari provare anche a fare il 3-0, la Juve comunque non è riuscita a spingersi abbastanza in avanti, perché comunque noi si teneva anche la palla, avendo un attaccante fresco, eccetera, eccetera, quindi era ora che Conte facesse tutto giusto, sono cose che dicevamo già prima, quindi non le diciamo adesso col segno del poi, le dicevamo prima, e coerentemente le diciamo anche adesso, e quindi quando fa bene Conte, siamo tutti felici di premiarlo, e di fargli i complimenti, come questa volta, soprattutto contro la Juve, ovviamente, quindi partita molto importante, non per il suo passato, questa cosa è, io non sono fanatico di questi discorsi, eh Conte, Juventino, Puol, nell'Inter, Vidal, queste cose, perché poi nel mondo del calcio, si è professionisti, soprattutto quando si è pagati 12 milioni a stagione, si è professionisti, ecco, ci vuole veramente del complottismo, a pensare che uno arrivi lì per distruggere la squadra, non è impossibile, succedono questi casi anche un po', ma sono talmente rari, talmente poco provabili, da provare, talmente poco documentabili, che lasciarei stare questi discorsi, quando la squadra non rende, perché Conte fa degli errori, non perché voglia farli apposta, perché così, eccetera, eccetera, e infatti, ieri invece ha fatto tutto quanto bene, e se a volte lo critichiamo, questa volta invece bisogna elogiarlo, e riconoscere che ha fatto le cose come vanno fatte, ecco, questo è un po' il punto, io intanto vi saluto, vi rimando a domani, ditemi un po' cosa pensate appunto del logo, questa cosa qua, e ovviamente scatenatevi, giuite, godete quello che volete, insomma, per la partita di ieri, sotto nei commenti, con i like, scrivete quello che volete, comunque c'è solo da essere contenti, per la prestazione che abbiamo tirato fuori, sperando che sia una prestazione, che ripeteremo presto, e non gasiamoci, non entusiasmiamoci troppo, perché quello che fa vincere è la continuità, non è l'esploit, la partita epica, così pazza Inter, fai la partitona, e poi magari la prossima si fa fatica, bisogna trovare una continuità, trovare una costanza, e, insomma, avere una certa, acquisire una certa sicurezza, ecco quando andiamo in campo, forza Inter, e alla prossima!